No ragazzi mettiamo subito le cose in chiaro, io non centro nulla sulla separazione tra Alvaro Morata e Alice Campello basta con queste insinuazioni perché ho visto tanti giornali che ci stanno marciando su, giornali sportivi, giornali gossip Alvaro Morata, Campello, storia finita, ci sarebbe lo zampino di Brogna? No, non c'è nessuno zampino Noi Alice abbiamo un ottimo rapporto, ci sentiamo, ma non centro nulla perché tra me e lei non c'è stato quasi mai e non c'è stato mai, mai, mai niente, ci tengo a precisare questa roba qua Minchiate a parte signori, porca di quella troia, ci sono rimasto male, ci sono rimasto male è finita la storia d'amore tra Morata e Campello e figuriamoci se non dovevano esserci problemi familiari proprio quando arriva al Milan, ma mi sarebbe dispiaciuto a prescindere ragazzi, devo essere sincero perché ho sempre visto Morata e Alice come la coppia perfetta, quella indissolubile e puntualmente ragazzi invece è successo, è successo, mi dispiace ovviamente tanto per Alvaro anche per Alice ovviamente, speriamo che non abbia ripercussioni insomma sulla sua avventura rossonera vabbè, chiudiamo questo capitolo, ho cercato di ironizzare un po' come piace fare a me domani ci sarà il trofeo Berlusconi non lo seguiremo in diretto, forse sì ve lo farò sapere su Instagram perché non so se è un impegno o meno, non so se riesco a vedere la partita a casa oppure se riuscirò a vederla in giro però appunto ve lo farò sapere sarà un bel test, secondo me interessante per rivedere in campo un po' di giocatori che hanno giocato o meno o che non sono stati neanche convocati nella tournée americana chissà se ci sarà un po' di minutaggio anche per Alvaro Morata sono curioso, sarei curioso di vederlo all'opera anche perché ragazzi, ridendo e scherzando tra poco c'è la serie A si ricomincia ragazzi, si ricomincia allora, visite in corso in questo momento per Emerson Royale ieri sono andati online i primi video che testimoniavano il suo arrivo a Milano questa mattina appunto visite di rito ed Emerson Royale sarà il nuovo terzino destro del Milan e anche qui grande curiosità per capire anche la gestione di Calabria perché dubito che adesso di punto in bianco venga fatto fuori da capitano a titolare a non capitano suppongo perché credo che la fascia andrà a qualcun altro perché insomma la fascia deve averla chi gioca ecco, a tal proposito, a chi dareste la fascia? perché secondo me è tosta è tosta è tosta decidere chi sarà il capitano sto cercando di ragionare Teo, ragazzi, con tutto che è fortissimo secondo me non ha le qualità per essere un leader in campo cioè un leader deve essere sì come dire tosto ma fino a un certo punto lui ogni tanto sbarella secondo me non è il capitano adatto anche se ci sono grandi possibilità che possa diventarlo secondo me Mignan sicuramente sì potrebbero giocarsi a loro due Tomori volendo anche Tomori sì vabbè Paolo Vicinoro Ial no a centrocampo Benassè non sappiamo manco se rimane Reinders non credo è da troppo poco tempo al Milan Pulisic e Ciukwese per lo Leao Morata va bene quindi secondo me se la giocheranno Mignan Tomori Teo credo che saranno loro a contendersela detto questo ragazzi che dire il mercato va avanti a rilento molto a rilento mi ha dato molto fastidio leggere la notizia su Fofanà che ho letto ragazzi Fofanà vuole il Milan ma questo l'abbiamo capito lo sta dicendo praticamente ininterrottamente da mesi però poi l'articolo si chiude con un vabbè se non verrà quest'anno verrà parametro zero il prossimo anno lato giornalistico ci sta l'informazione che si può dare io non capisco i commenti di quelli che sono quasi quasi sperano sul fatto che possa arrivare a zero il prossimo anno allora punto primo punto prima la cosa più importante non prenderlo ora significa avere un buco lì significa proprio avere fisicamente un buco cioè il Milan entrerà in campo con un buco così a centro campo punto numero primo punto numero primo punto primo punto secondo ragazzi il prossimo anno poi chi vi dà la certezza che arrivi a zero il Milan ha dimostrato in più occasioni che non è bravissima a muoversi con i parametri zero perché il parametro zero è sinonimo di commissioni e il Milan di commissioni non ne vuole sapere non ne vuole sapere che siano parametri zero che siano come dire tipo il caso di di Zirzè no? clausola eh non mi venia clausola la rescissoria quando ci sono queste situazioni poi c'è sempre c'è sempre l'ingaggio da dare la commissione da dare al manager di turno e noi non siamo in grado non vogliamo non vogliono non vogliono pagarle quindi perché devo aspettarmi che adesso per Fofanà sarà una roba diversa ma poi voglio dirvi anche lato Fofanà no? cazzo vi dico che voglio venire voglio venire voglio venire e tu pur di non sganciare quei soldi piuttosto aspetti un anno mi fai stare in squadra nella squadra da cui vorrei andare via per un anno per poi venire da voi secondo me è brutto anche lato Fofanà poi non so se questo articolo questi articoli hanno una verità di fondo oppure sono scritti un po' così però mi auguro davvero che non sia così ragazzi perché noi abbiamo estremamente bisogno di un Fofanà possibilmente Fofanà non è che ora arriva lui e ci risolvi i problemi è ovvio che un po' di problemi difensivi dello scorso anno potremmo già risolverli con un assetto un po' meno spregiudicato quello sì però l'incontrista ragazzi serve perché non ne abbiamo non ne abbiamo ma è una roba che non ci vuole neanche un esperto di calcio per notarlo non ne abbiamo abbiamo bisogno di avere uno lì di una diga davanti alla difesa assolutamente assolutamente detto questo ragazzi e vi ripeto non è detto che il prossimo anno poi possa arrivare anche perché magari adesso ci sono meno squadre interessate a Fofanà che ricordiamo nel giro della nazionale ha fatto una stagione più stagioni importanti è ovvio che poi quando arriva a parametro zero aumenta anche l'interesse di altre squadre ora stavi sfruttando anche il momento in cui sembrava solo il Milan interessato più altre due o tre squadre che lui ha bellamente rifiutato per venire al Milan il prossimo anno chi ti dice che non si muove una big europea per prendere Fofanà non mi sembra così assurdo è ovvio che poi più aumenta la concorrenza più le commissioni aumentano e più il Milan è segato fuori perché lì poi il volere del calciatore adesso può avere un peso tra un anno sicuramente no perché voglio la dire tu Fofanà al tuo manager no no voglio andare al Milan ma non mi pagano le commissioni c'è il Chelsea che invece mi dà 10 milioni di euro di commissioni valla a convincere valla a convincere detto questo signore vi saluto vi ringrazio e ci vediamo in un prossimo video ciao